Monte Suso Nella guerra mondiale sei stato armato con il corpo di guardia del soldato. Per le tue falde perpendicolari hai protetto l'umanità dei perati del male. La plezza si sentiva arrivare e con poche risorse riuscivano a campare. Ancora oggi sei ricordata di un'amministrazione illuminata. Anche se è sempre stata abbandonata, per la tua dicorrenza sei sempre ricordata. Questa croce che ti è stata donata è la provenienza di un'ammagine umanata. Tutti viviamo la giornata pregando a Dio che la nostra anima sia salvata. L'impegno sembra piccolo ma è grande. Questo è un gesto importante. Chi è fedele e indente prega al Signore perché dovunque è presente. Gli addio Giuseppe e il compositore. Scusatemi tutti se ci trovate all'ora.